Permiso, qui vorrei parlare io perché questo chico non sapeva parlare molto bene, sì? Hola, lei è Ludmilla. Nella verità, nella realtà, si chiama Mercedes. Però tutti quanti noi la chiamiamo Mer. Hola Mer, come stas? Bien, boss. Allora, lei, il suo personaggio è il personaggio più cattivo della serie. Dobbiamo parlare a passapose perché stanno registrando. Però lei è la cattiva della serie. Però è buona, è brava, è bella e niente, li vogliamo tutti quanti bene. Dobbiamo passare la voce.